Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove ci sono 3 km di coda tra Montelupo, Fiorentino e Lastra, signa in direzione Firenze per un mezzo pesante fermo o in avaria al km 13 e 200. In A1 coda in uscita a Firenze e Scandici provenendo da entrambe le direzioni. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Per la viabilità cittadina a Firenze oggi e per i lavori alla tramvia sarà allestito il cantiere in piazza Bambine e Bambini di Beslan. Scatterà il divieto di transito nella corsia di collegamento fra la semicarreggiata a lato IGM e la corsia a lato Fortezza. Infine per gli aerei si ricorda che oggi è in atto uno sciopero dei voli. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!